Bentornati su Criticates. Questa è una serie di video dedicati ai movimenti artistici. Inizieremo con la preistoria fino ad arrivare alle vanguardie. Sei pronto? Ma prima di iniziare iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sulle prossime novità. Spesso sentiamo parlare di arte povera, senza però coglierne davvero il significato. Si potrebbe ipotizzare dal nome che si tratti semplicemente di una corrente artistica in cui mezzi adoperati per fare arte siano a basso costo, ma è impossibile dare una corretta definizione di questo movimento artistico senza inquadrarlo in un preciso momento storico, ovvero il 1966. I suoi principali esponenti sono Mario Mertz, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio e Giannis Cunelis, i quali sono in aperta polemica con la pop art. Il termine arte povera deriva dall'uso anche in senso critico e ironico di oggetti e materiali inusuali, poveri, di origine naturale, pezzi di legno, tronchi, corde, brandelli di stoffa, terra, gesso e paglia, i quali vengono poi messi in relazione con altri tecnologici o comunque artificiali come neon, luce elettrica, acciaio inox. L'artista attraverso questi materiali atipici cerca di entrare in contatto con la natura, con la società, con il mondo in cui vive. Nell'arte povera troviamo una critica al mondo industrializzato, al consumo, a quella eccessiva modernità che minaccia la memoria culturale. Possiamo trovare opere che cercano un'integrazione con l'ambiente ed altre che combinano elementi antichi con altri che riflettono nel progresso sfrenato il consumo, come nell'opera di Michelangelo Pistoletto, La Venere di Stracci, del 1967. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che questi materiali poveri invecchiano, si ossidano e addirittura si sfaldano, si trasformano come l'ambiente e l'artista stesso. L'opera, che cambia forma, fa parte di un mondo, di un ambiente, che a sua volta si trasforma. Ti è piaciuto il video? E allora lascia un mi piace. Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle prossime novità, iscriviti al canale. A presto! Grazie! Grazie! Grazie!